Pulizia dei rivestimenti protettivi HP Print User Wellness Per prima cosa, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Formule detergenti e disinfettanti, approvate e testate. Per i rivestimenti protettivi HP Print User Wellness in silicone. Prodotti a base di cloro, con contenuto di candeggina fino a 100.000 ppm, 10%. Prodotti a base di formaldeide, con contenuto di formaldeide fino a 370.000 ppm, 37%. Prodotti ossidanti, come il perossido di idrogeno, con contenuto massimo di 30.000 ppm, 3%. Ammonio quaternario, con contenuto massimo di 20.000 ppm, 2%. Nota! Con il tempo, i clienti possono notare un cambiamento visibile delle finiture estetiche, dovuto all'uso delle tecniche di pulizia menzionate in questo video. Indossare un paio di guanti monouso. Quindi inumidire un panno in microfibra con una miscela disinfettante consigliata dal Ministero della Sanità, con il 70% di alcol isopropilico e il 30% di acqua. Assicurarsi che il panno sia solamente inumidito e non inzuppato. Strofinare le superfici delicatamente con il panno, cominciando dal pannello di controllo. Terminata la disinfezione, spruzzare un detergente per vetri su uno straccio. Per pulire il vetro della copiatrice e dello scanner. Dopo aver pulito tutte le superfici, smaltire i guanti. Lasciare asciugare le superfici. Quindi ricollegare la stampante alla presa a muro e accenderla. HP consiglia di ripetere la procedura di pulizia a intervalli regolari. Per trovare video HP in altre lingue, fare clic sulla scheda Playlist in YouTube. Cercare nel nostro canale i video ufficiali del supporto HP. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.